Tutti, in ogni momento, possiamo essere spazzati, in ogni momento, in ogni momento. Quindi io sono con il sindaco, ho i denti ora, ok? Non faccia politica con il fiume! Lei stia zitta, lei deve stare zitta, sto parlando io, lei fa politica e le disturba, lo vede? Questo non è l'assessore di tutti, ecco la che viene fuori, ecco la che viene fuori. Assessore Campagnolo, consigliere Campanile, non provochi, e assessore lei non risponda. Consigliere, continua a fare il suo intervento, altrimenti non possiamo interrompersi sempre. Campagnolo, viene fuori anche lei come la Campagnolo, la muscolarità che è scomparso dietro queste giacche. Ma sì, ma tanto si presenterà nel 25, ma l'aspetto. Consigliere, continua il suo intervento, assessore poi replicherà quando avrà modo e tempo di farlo. Prego, consigliere, continua. Prego, 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 prego.